Allora Enrico, siamo qui alla rifinitura della gara di domani contro la US Scafatese, che gara vi aspetta? Sicuramente tutte le gare per noi saranno dure, domani affrontiamo una squadra che io conosco bene, allenato da un allenatore giovane, però molto preparato. Sono dei ragazzi che giocano insieme già da un po' di anni, quindi bisogna stare molto attenti. Voi venire dalla gara di coppa contro l'altro Scafatese, comunque anche se non c'è stata una grande prestazione, è anche arrivato un buon pari, proprio in vista della gara di ritorno, con un tuo gol. Sì, sicuramente, obiettivamente sulla carta potremmo vincere tranquillamente, però è arrivato questo pari che fuori casa, in Coppa Italia, a mio avviso può essere un buon risultato, è normale, adesso gli aspettiamo il ritorno, con la speranza che riusciamo a superare questo turno, perché noi ci teniamo a questo obiettivo, è un obiettivo importante e quindi quando ci sarà l'occasione, nel ritorno, sperando di fare una grande partita e portare questa qualificazione. A proposito sempre di quella gara, c'è anche stato un confronto con i tifosi, cosa vi hanno detto, vi hanno spronato? Sicuramente è stato un confronto, a mio avviso, costruttivo, non ci hanno detto nulla, diciamo solamente di dare di più, come è giusto che sia, ci troviamo in una piazza importante e quindi dobbiamo onorare questa maglia e quindi c'è stato un confronto tranquillo, leale, sincero, c'è stata una grande passione e questo, a mio avviso, l'abbiamo notato un po' tutti, nel senso che c'è gente che vive 24 ore per la nocerina e quindi noi dobbiamo essere responsabili di far sì che magari possiamo regalare una promozione. Ci auguriamo a mio avviso che a fine campionato magari possiamo regalare a questi tifosi stupendi, secondo me è una gioia perché se lo maredono tanto. A proposito dei tifosi, domani, non so se lo sai, ci sarà il ritorno allo stadio di uno dei gruppi più storici, più importanti di questa piazza. Quanto è importante questo? Sicuramente ci responsabilizza ancora di più, però è inutile nasconderla magari che tutti noi chiediamo l'apporto dei tifosi e domani se ce ne saranno di più dobbiamo essere bravi a riportarne ancora di più perché questo stadio quando è vuoto è triste diciamo, abituato ai pienoni, diciamo vederlo vuoto è una notta stonata, quindi domani li aspettiamo, sperando di regalargli una bella vittoria così possiamo festeggiare definitivamente insieme a loro. Invece ultima battura sul nuovo tecnico Maiuri, che impressione ti ha fatto in questi primi giorni di allenamento? Sicuramente è un tecnico preparato, ha fatto piazze importanti, lo conoscevo diciamo come nome, è un tecnico che sicuramente ci darà una grande mano, mi auguro che già da domani ci saranno i primi tre punti con il nuovo allenatore, a mio avviso ringrazio l'allenatore precedente, ora voltiamo pagina e sperando di conquistare l'obiettivo finale che per noi resta sempre il campionato.